Ciao a tutti grandissimi, sono qui a Cologna Veneta, che vi invito Daniele, perché oggi vorrei presentarvi, e vi presentiamo anzi, degli orologi, secondo me veramente validissimi, realizzati molto bene, economici, perché costano poco, poca spesa e tanta resa. È perfetto, quindi ci siamo capiti subito. Poca spesa e tanta resa, belle colorazioni, parliamo ovviamente dei siti sensuiosa, abbiamo diverse configurazioni, quindi sono anche molto interessanti da questo punto di vista, perché possiamo avere per dire la configurazione col pelle, la configurazione normale, la configurazione con la secondina, e poi in realtà la versione con la secondina, mi dicevi Daniele, hanno cambiato un pochino il calibro. Sì, hanno cambiato il calibro, l'hanno passato a 60 ore di riserva di ricarica e l'hanno abbellito un pochino, hanno fatto delle decorazioni al calibro che sono sempre bella certa. Infatti, adesso ve li faccio vedere, e devo dire che per la fascia di prezzo, considerando la qualità della testa e dell'orologio, un ottimo bracciale, poi vi farò vedere soprattutto la chiusura in questi qua nuovi, che l'hanno cambiata, quindi quelli con la secondina l'hanno fatta più solida, e oltretutto hanno anche decorato il movimento. Sì, e cosa in più, li hanno dotati di sgancio rapido del bracciale, che in futuro, ho sentito il rappresentante da poco, non è ancora disponibile, ma ci sarà la possibilità di montare i cinturini, perché ci saranno i cinturini dedicati disponibili direttamente. Quindi ci si può giocare anche alla grande per quello che riguarda il comparto cinturini. Qua dietro, comunque, abbiamo anche che li osserva, che fa la guardia, un Citizen Serie 8, perché questo è un orologio che io guardo da un pochino, e mi sa che colpirò a breve, perché è veramente bellissimo, ma ve lo farò vedere dopo, ragazzi. Intanto vi facciamo vedere questi fantastici quattro Citizen, le vie che si vuole. Ed eccoci ragazzi, partiamo con questi fantastici Citizen Suiosa, con la secondina ad ore 6, orologi davvero ben realizzati, qui abbiamo la versione con cinturino in pelle da 359 euro, questo fantastico quadrante grigio. Orologio, come vi dicevo, davvero ben realizzato, dal diametro di 40 mm per 11.7 di spessore, movimento Miota 83-22, 50 bar di resistenza all'acqua. Adesso vi faccio vedere uno dei dettagli migliori di questo orologio, dove è stato fatto l'upgrade più importante, che è sicuramente il bracciale, che risulta estremamente più solido, con sgancio rapido, una chiusura doppia deployant molto solida, molto performante, quindi è stato fatto un upgrade, secondo me, notevole. Il movimento, che potete osservare, risulta anche molto più rifinito rispetto alle versioni con i secondi centrali. Devo dire che per il prezzo di soli 359 euro è stato fatto, secondo me, un grande lavoro per questo fantastico entry level di Citizen. Guardate anche la chiusura, come è bella, solida. Adesso vi faccio vedere una delle colorazioni più interessanti, in questo caso completamente braccialato. Bracciale è sempre il medesimo che abbiamo visto prima, quindi insomma molto solido e bello. Il listino è di 369 euro. Troviamo sempre un orologio che ha il diametro di 40 x 11.7 di spessore. Miota 8322, fantastico questo quadrante azzurro, per un orologio che ha una cassa realizzata estremamente bene, vista la fascia di prezzo. Credo che sia un prodotto molto interessante per chi desidera avvicinarsi al mondo degli automatici e vuole già un orologio, sì economico, ma comunque di qualità, che possa durare sicuramente nel tempo. Qui vi faccio vedere anche l'altra variante di colore, che trovo anche questa molto interessante, un po' fuori dal comune. Quindi insomma sono anche orologi che oltre per la forma particolare si vanno a distinguere anche per quelle che sono le colorazioni. Tipica corona ad ore 4 e mezza, che una volta incassata la corona a pressione va completamente a spessore. Adesso vi faccio vedere questa colorazione che è sicuramente per il mio gusto la più interessante. Qui abbiamo un orologio con una cassa, come vi dicevo, realizzata davvero bene. Grande solidità sul bracciale, sempre lo sgancio rapido, il solito movimento 8322. Miota che comunque la decorazione si fa apprezzare, soprattutto magari per chi è neofita e decide di voler vedere il movimento in funzione. Vi dicevo colorazione particolarissima che ho trovato in pochi orologi. Devo dire anche la finitura superficiale del quadrante mostra grande cura, grande lavoro da parte di Citizen, che ha creato per pochi eurini un orologio davvero prestazionale, bello e sicuramente originale per tutti quelli che si approcciano a questo mondo. Ma adesso vorrei farvi vedere anche il confronto con questa, che è la versione classica, quindi con secondi centrali in questo fantastico quadrante color bronzo. Come vedete il movimento è una serie 8 normale. Il listino è più basso perché si parla di 299 euro, ma il bracciale, soprattutto la chiusura, è decisamente più economica e anche la complicazione, non avendo la secondina, è qualcosa di minore. Qui a confronto a entrambi gli orologi la cassa risulta essere la stessa. Sul bracciale non ci sono dubbi, per 69 euro in più secondo me conviene assolutamente la versione con secondine. Guardate la differenza per quello che concerne il calibro a livello di lavorazione. Secondo me non c'è assolutamente paragone, se non per il fatto che le versioni precedenti vengono offerte con delle tonalità di quadrante molto molto carine. Questo è veramente, secondo me, sfiziosissimo. Ora ve li faccio vedere indossati al polso, 40 mm che calzano benissimo. La corona a ore 4 e mezzo scompare in quella che è la silhouette della cassa, quindi insomma abbiamo un orologio che si indossa davvero benissimo. Vi faccio vedere anche la versione precedente che ha un bracciale diverso, ma la dimensione della cassa risulta assolutamente identica. Sul mio polso da 18 e mezzo a 19, portabilità eccellente. Ora vorrei spendere un minuto per farvi vedere, perché ce l'avevo davanti, poi era anche blu che mi piace sempre di più. Cosa faccio? Non vi faccio vedere questa fantastica serie 8? Prezzo più impegnativo, si va a raddoppiare la posta in maniera abbondante, 790 euro, migliotta serie 9, il 90-51, 10 bar di impermeabilità, quindi guadagniamo 50 bar, sempre 40 mm di diametro, vetro, zaffero per quello che è un orologio secondo me fantastico, a cui sto pensando seriamente come citizen da inserire in collezione, perché qui secondo me, vista la qualità della cassa, delle lavorazioni e del bracciale, hanno fatto un gran bel lavoro. Forma molto originale, un filino mazinga zeta, ma si sa la linea è estremamente giapponese, grande portabilità anche qui al polso, 40 mm che vestono davvero bene per un orologio curato che mi è piaciuto davvero tanto. Brava brava citizen per la fascia di prezzo, secondo me ha creato un gran bel prodotto. Ma adesso direi di tornare assieme al mitico Daniele per le conclusioni grandissime. Ed eccoci tornati grandissimi come avrete potuto vedere, sono orologi secondo me molto ben realizzati, ad un prezzo ottimo per giocare, per divertirsi, da utilizzare anche tutti i giorni, per andare al lavoro, per le attività insomma nel tempo libero. Secondo me è una bella risposta al suo diretto concorrente che è anche Seiko, quindi qui abbiamo un prodotto secondo me molto centrato. Tra l'altro con il giusto prezzo si ha un prodotto fatto veramente bene, come abbiamo visto, è bellissimo a corrermi. Poi comunque se si vuole salire un pochino in termini di performance e di qualità, io vi invito anche a vedere la serie 8, perché credetemi è un orologio validissimo, oltretutto con Mi 8 a serie 9, l'ha chiamato serie 8 con serie 9. Esatto. Però vale davvero tanto la pena, anche qui tantissime versioni, ho già fatto un video dedicato a tal proposito e più lo guardo più mi piace. Guarda, tra l'altro ho un packaging di tutto rispetto, rispetto agli altri Citizen che di solito ho un packaging abbastanza standard, qui gli hanno fatto una bella box dedicata, fatta bene. Ma dimmi Daniele, tra questi qual è il tuo preferito? Guarda, io probabilmente sto ponderando da portarmi a casa tutto qua, penso che entrerà nella collezione, anche perché sta a secondino, ore 6, così mi piace. Mi piace anche la rifinitura del quadrato. Molto, molto bello. Per l'estate? Per l'estate, perfetto. Io rimango un po' più sul tradizionale, devo dire che a me è stregato tantissimo questo colore qua a bronzo, come sapete io sono un grande fan di questo tipo di colorazioni, anche se questa è la versione, diciamo, classica, quindi senza secondina. Devo dire che sinceramente per un prezzo di 299 euro di cartellino per un oggetto del genere mi sento veramente molto pronto ad acquistarlo, soprattutto per fare anche primavera e estate. Insomma, un prezzo assolutamente modico, sia un bell'oggettino divertente da non svenarsi e da indossare senza remora e senza problemi. Anche se poi per l'estate Citizen ha dei prodotti un po' più tosti. Rientriamo nel mio campo. Ma comunque ne parleremo a brevissimo, ragazzi. Nel frattempo io vi ringrazio tantissimo, venite a fare un giro qui a Colonia Veneta a guardare un pochino di questi fantastici orologi e cos'altro dire, entrate nel gruppo Telegram, trovate lì anche Daniele, quindi gli potete chiedere foto, video, cose, dubbi, qualsiasi cosa. Come sempre è stato un piacere, vi faccio vedere Pedrone, non tenete. Sono curioso anch'io. Ciao, grandissimo. E non potevamo non dare una delizia a questo bellissimo cucciolo, eh Pedrone? Cosa ne pensi di Citizen? Ma vedo che scuote molto la coda, quindi le impressioni sono assolutamente positifiche. Madonna mia, sei proprio sfrontato, eh. Sì, devo dire che i Citizen comunque gli piacciono, sta mostrando un certo apprezzamento, vediamo di dare un po' di gas, eh, diamo un pochettino di gas qui, dov'è il punto? Ah, ecco, lo stiamo trovando, lo stiamo trovando, mamma mia come sei lungo. Eh, Volpetto? Da me, da Pedrone, un carissimo saluto. Guardate che ruffiano, guarda che roba, eh. Però Citizen gli piace, la coda continua a muoversi, è un ottimo segnale. Benissimo, come sempre è stato un piacere da me, da Pedrone, un carissimo saluto, ragazzi. Eh? Mmm. Brrrr. Brrrr. Brrrr.